Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio della Tesla Craft 3 Basta perdere, questo sarà il motto d'ora in poi Ora, come potete vedere non ho recuperato le mie cose fra un video e l'altro Nello scorso episodio siamo morti nella dimensione della formica rossa uccisi da un basilisco Quindi, in questo episodio dovremo armarci fine denti e recuperare quanto possibile di quello che c'è lì Probabilmente però quando arriveremo saremo già molto più potenti di quando siamo arrivati la scorsa volta E quindi sarà pressoché inutile andare a recuperare tutto quanto Però voglio comunque farlo perché lì per esempio c'era lo zaino C'erano degli attrezzi molto forti, le spade C'erano le tazze di tè che sembra una cagata così Ma in realtà sono importantissime perché io senza tè sapete bene che non sopravvivo Assolutamente perché muoio assiderato Fra un video e l'altro io ne ho approfittato e sono riuscito a scavare un bel po' di minerali Quindi come potete vedere qui ho dell'uranio, ecco qua Ho anche del titanio e ho anche un bel po' di pepite che posso andare a craftare Se non mi sbaglio adesso tipo uranium, ok? Si dovrebbe semplicemente riempire tutto lo slot, tutti gli slot esatto Quindi varrà la stessa cosa anche per il titanio Voglio fare assolutamente questa cosa per riuscire ad ottenere più materiali possibili E farmi anche più armi possibili Per le spade non voglio esagerare Voglio puntare invece tanto sull'arco Quindi per esempio Ultimate Se io scrivo Ultimate e faccio Recipe Ok serve un lingotto e due pezzettini più tutte le string Quindi allora vediamo Un lingotto di ferro ce l'ho senza problemi Le strings dovrei avercele da qualche parte Nella monnezza che c'è qui Non ho delle strings Mai non ci credo Ma dai Ma veramente? Veramente mi stai dicendo questo? Bene, perfetto Casa sull'albero Tipiamoci un attimino al Jerry's Tree Ok E come potete vedere qui sto liberando tutto quanto pian pianino Questa qui comunque sia Voglio utilizzarla come base secondaria In ogni caso Uh, perfetto Tre corde Vediamo se c'è qualcos'altro di utile qua nelle ceste nel frattempo No, sembrerebbe di no Perfetto Ce ne torniamo alla Tana Teleport Ottimo Ottimo Allora Se non mi sbaglio era così Così Lingotto qua E tre corde Ragazzi abbiamo l'Ultimate Bow Con potenza 5 Flame 3 Punch 2 Infinity 1 Quindi non abbiamo neanche bisogno delle frecce Siamo proprio a posto adesso Posso prendermene soltanto una E sono a posto Per quanto riguarda la spada Voglio puntare su qualcosa di abbastanza forte Quindi per esempio Vediamo la Amber Stone Anzi Vediamo un attimo Sword Che poi in teorista dovrebbe dire Sword Perché la S Deve essere Ehm Muta Quindi Sì era questa Assolutamente Bene Mi ricordavo che togli S di più Invece no Ok Ci prendiamo la Cristellite Sword Così E direi anche Di metterla qui Equipaggiata vicino all'arco Come cibo Non ho molto cibo Purtroppo Anzi no No vabbè Qualcosa c'ho Ok posso pigliarmi questo Mi porto dietro anche Magari due mele d'oro Metto giù la lattuga Perché preferirei non sprecarla Comunque sia E magari Se c'ho un piccone Potrebbe essere Una buona cosa Ecco va Prendiamoci questo qui Che tanto Non è il massimo Però almeno È già qualcosa Lascio giù chiaramente Tutti questi minerali Perché sono Fin troppo importanti E a questo punto Devo farmi un'armatura Dobbiamo decidere Con che materiale Farci l'armatura Quindi per esempio Mi sono preso Diversi minerali a caso Vorrei vedere Se con tutti Si possono fare Delle armature Ecco tipo L'ametista Non può fare L'armature La meteorite Può fare Delle armature Esattamente Mi ricordavo bene Il rubino Può fare Anche lui Delle armature Bene E la amber stone Fa vedere No Sembrerebbe di no Aspetta No esattamente Allora sapete cosa vi dico Non voglio Fare una cosa Troppo Troppo impegnativa Mi faccio Un elmetto Così in meteorite Non è da sprecare poco Anzi mi farò Dei piedini Sapete Dei piedini Perfetto Il resto lo faccio Tutto quanto in diamante Tanto di diamante Se ne trovi Veramente tantissimo In questo mondo Quindi posso andare Tranquillamente così E mi faccio Il full set di diamante Purtroppo non ho Incantamenti Quindi non posso Neanche incantarle Tutte queste cose Però adesso Voglio farvi vedere L'efficienza Di questo arco Perché è veramente Qualcosa di micidiale Vedete Posso sparare Frecce a ripetizione Cioè è una mitragliatrice Praticamente Quindi adesso Siamo a posto Ok Vediamo se Posso farmi Un po' di latte È tipo questo qua Firestaff Ok Non posso farci niente Voglio vedere un attimino Se la common ninja rob Mi dà qualche potere No assolutamente no Quindi direi soltanto Di andare a dormire In questo modo E Vedere Che cosa fare A questo punto Allora Potrei provare Direttamente a rushare Oppure Ad andare un attimino In giro E magari Prendermi tipo Pensavo di farmi Dei secchi di latte In realtà Però mi sa che Non ha molto senso Perché comunque Il malus Di lentezza Loro Ce lo continueranno A dare Oh mio dio Quante formiche E quindi Sì Alla fine È una cosa abbastanza Notica Guardate questa qui Arcobaleno Wow Bellissima Ok Però non interessano Queste qui Queste maledette Formiche rosse Ok Eccoci qua Siamo ritornati Nel punto In cui eravamo morti Non è vero mai Nel punto in cui Eravamo Spawnati Nello scorso episodio Ho sbagliato a parlare Voglio provare a uccidere Questa pecora però Tipo Ok Perché c'ha Dai pantaloni In testa Quindi parliamone È una cosa Veramente Ignobile Allora Posso tipparmi Direttamente qui Ma direi che vado Dovrebbe essere questa Lapis Dungeon Teleport Ok Sì È questo Ragazzi È questo Io tipo Paurissima Sono troppo spaventato E perché So benissimo Che Probabilmente Mi sciotterà malissimo Questo Mob Incredibile Se faccio così posso No eh Devo invertirli Credo Poi in realtà Non so se posso Comunque Che cacchio Cosa Oh mio dio Mi stava spaventando tantissimo Era posseduto Ah non posso metterlo qui Vabbè Shalla Chi se ne frega Dovremmo andare Al vecchio modo Combatterò soprattutto Di arco Io ve lo dico eh Questa run Ce la facciamo tutta quanta Di arco Fra l'altro Devo ringraziarvi Perché nei commenti Mi avete suggerito Di usare F3B Oh mio dio Cos'è sta cosa What? Ok Abbiamo una sorta di Ma Che cosa fastidiosa Vabbè Vabbè Però In questo modo Dovrei poter vedere L'entità Tipo No l'entità La Dov'è La hitbox Dell'entità Quindi ci sta Come cosa E Oh mio dio Sapete che Questo posto A me fa tipo Paurissima Eccoci qua Qui c'era Il dannatissimo Basilisco Eccolo Eccolo Tisciotto Porca misia Orca bestia Tisciotto Guardate quanta vita Che li tolgo Guardate Mamma mia Purtroppo Ci sono anche Tutte queste frecce Che No ragazzi Devo togliere Questa cosa qui Dell'entità Purtroppo Ma se io tipo Ti smitraglio Eh Se ti smitraglio C'era anche uno scheletro Che ci fa qui Mio dio Mio dio Ti ammazzo tutto Ti ammazzo Ti ammazzo di brutto Vieni qua Oh mio dio Quanto fanno paura Sti cosi E il punto è che Purtroppo lì dentro Non si vede niente Perché Perché sta cosa Mio dio Si è mangiato lo scheletro No perché mi segue Ma ha sgamato Ma ha sgamato L'ho ucciso L'ho ucciso Ce n'è un altro No sono finiti Oh mio dio Yes Random teleport block Ah Questo blocco qua Tipo ti Te teletrasporta random Mi ha dato anche una chestplate Ok la prendo Devo anche stare attendo Quindi a questi Random teleport Cosi E Maledetto Maledetto Ok 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 Ho appena recuperato Tutta quanta la mia roba Credo Credo di si Dalla quantità di oggetti Che mi volteggiano attorno Direi assolutamente di si Allora Facciamo così Questo lo droppi via Questa qui la mia spada La metto un attimino qua Via Il mio cannon blaster Ottimo Se riuscissi a prendermi La torcia Sarebbe una buona cosa Sapete Tipo Eccola qui La torcia strapotente Vai La torcia estrema Bam Ok Occhio ai random teleport block Però eh Ok Mi prendo lo zaino E ci vomito dentro Un po' di tutta questa Roba Guardate quanta Guardate quanta Allora vediamo cosa c'è qui dentro Vai Diamanti Tantissimi diamanti Lava heal Ok Con questo qua ci avevo fatto l'armatura Se non mi sbaglio Titanio Questo è figo Qui dentro non c'è nient'altro Oh mio dio Ragazzi Che cacchio sono Che cac... Che cosa What the fuck Veramente what the fuck Che cosa sono ste robe Via Morite Morite O brobri Sgorbi della natura Moriteci Sentivo sto suono Alle spalle E dicevo Che cacchio è Qua sono dei dinosauri Muorici Di smitraglio E tutto quanto The ultimate helmet Cosa Sunfish Vabbè Un pezzo Oh mio dio The ultimate chestplate Ragazzi The ultimate pickaxe No raga No No OMG No don't do it Ok Questo so che cos'è E the ultimate boots Cioè praticamente Abbiamo tutta l'armatura Ultimate E me la vado anche a mettere Assolutamente Guardate Mamma mia Aspetta un attimo Mamma mia Che figata Mamma mia Ragazzi Abbiamo Fatto il botto Proprio Il botto Ok Allora Fatemi mettere via un attimino Le cose qui dentro E fra l'altro Basilisk scale Questa cosa qui è molto utile Perché è uno degli ingredienti Per craftare la big bertha Quindi finalmente abbiamo anche uno degli ingredienti necessari per craftarla Ottimo Poi per liberare un pochino di spazio Direi di metterci qui degli attrezzi Anche se non potrò utilizzarli Chi se ne frega Mi serve giusto per poter liberare un attimino di spazio Tipo Fai in questo modo E metto anche magari questo E un altro oggetto Ecco Tipo Il piccone Che non potrò utilizzarli Logicamente Ma non mi interessa Però in questo modo posso liberare un pochino di spazio in più Direi di tiparci al Lapis dungeon Perché oggi mi sento potente Dopo aver Praticamente Shottato Quei Quei cacchio di basilischi Che Ci stavano facendo il culo Nello scorso episodio Che cacchio è sta cosa Ecco Questa cosa qui Mi inquieta parecchio Cos'è 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 Alien Alien C'è un boss Ma è pieno di boss Questo posto Oh mio dio Che cosa sono Cos'è Ragazzi Che cos'è Che cos'è Questa cosa Cos'è Cos'è Non si capisce niente È pieno di spawner Lì dentro C'è anche un suono Fastidiosissimo Tipo Ragazzi Le torce non resistono Le torce non resistono Cos'è Mi stai dicendo Che per la troppa Oscurità Tipo È tipo Il loro potere Ok ragazzi Sono riuscito a barricarmi Qui dentro Eppure c'è ancora bordello Nelle altre stanze Oddio Oddio Allora Dobbiamo liberarci un attimino Un inventario Perché qui stiamo trovando cose Veramente Molto ma molto Fighissime Non ha senso Quello che sto dicendo Però Raccogliamo tutto quanto Oh mio dio The ultimate chestplate Di nuovo Rubino Della ore spawn Ametista Ancora Della ore spawn E poi E franken ray gun E più delle robe di popcorn Blocchi di diamante Oh wow Wow assolutamente Direi che questo dungeon Ragazzi Lo affronto per conto mio Perché Veramente È troppo un casino Ok ragazzi Allora Esco vittorioso Finalmente Da questo dungeon Ci ho pregato Una quarantina di minuti Per Riuscire a sgombrare Tutto quanto E ho trovato dentro Un'ignoranza Completa di materiali Ma adesso Adesso vi faccio vedere Cioè voi non avete idea Delle armi Delle attrezzi Armature che ho trovato Ma Di tutto Tutto e di più Cioè proprio Non potevo sperare di meglio Ma veramente E qui c'è anche un tunnel Di ossidiana Cos'è questa cosa Fatemi vedere Perché adesso ormai Sono tipo Troppo interessato Da tutta questa roba Ah è proprio Una parte del dungeon Ah ok Si era tipo Ah si era quella In cui eravamo stati noi Ok quella che ho mostrato Proprio in video Benissimo Allora Vi faccio vedere Quello che ho ottenuto Perché ci sono cose Decisamente Ma decisamente OP E guardate Questo uccellino T-shotto Col piccone Fra l'altro Ok Allora Ragazzi siete pronti Voi non avete idea Di quello che ho trovato Dentro quel dungeon Allora direi di mettermi In un punto Abbastanza solenne Tipo Ecco Tipo qui sopra Che non è assolutamente solenne Però va bene lo stesso Allora Parliamone Ho trovato un'ignoranza Di ultimate bow Ne abbiamo quattro qui E forse un altro Anche qui dentro No Ok Questo qua è tutto il materiale Che abbiamo Praticamente Poi abbiamo 10 titanium ingot Abbiamo 2 uranium ingot Abbiamo un sacco d'oro Un sacco di diamanti 56 diamanti 3 blocchi Robin smeraldo Ender pearl Eye of ender Abbiamo vabbè OMG Don't do it Un sacco di ultimate Pezzi di ultimate Soprattutto le chestplate E vabbè di altro Nient'altro Ok Del rubino Della ore spawn Che sembra essere molto raro E la cosa più importante Di tutti The ultimate Sword Ragazzi Sharpness 5 Smite 5 Bay of Anthropods 5 Knockback 3 Looting 3 Unbreaking 3 Fire aspect 2 46,25 Di danno A colpo E guardatela È bellissima È veramente Qualcosa di spettacolare Mamma mia Ragazzi Siamo quasi full Ultimate armor Veramente Adesso siamo Strapotenti E tutto grazie a questo Misterioso Dungeon Dei basilischi Che veramente È stato qualcosa Di incredibile Ok ragazzi Allora Nel prossimo episodio Vedremo di andare In una nuova dimensione Partiremo chiaramente Dall'overworld In cui In cui Comincerò Anche ad appoggiare Tutte quante Le vari materiali Che ho recuperato In questo episodio E fra l'altro Veramente Veramente Tanta Tanta Ma tantissima Roba Lasciate anche Dei commenti Per suggerirmi Cosa fare Condividete il video Per farlo vedere Tutti i vostri amici E noi ci vediamo In un prossimo episodio Della Tesla Craft 3 Un saluto Da Tesla I'll see you next time